Buongiorno a tutti, grazie a Consultic per avermi invitato a partecipare e moderare in modo particolare questa tavola rotonda sul tema un po' della relazione tra la disintermediazione e la consulenza e parlare un po' quindi del futuro del risparmiatore. Con la disintermediazione sono crollate molte barriere, crescono tutte le risorse tecnologiche a disposizione, aumenta la velocità con cui tutto cambia, nascono disintermediazioni sociali, economiche, culturali, politiche e chiaramente nessun settore indenne, compreso quello finanziario. Basta pensare, non so, alle attività di social lending, di crowdfunding che si confrontano con un certo successo con un sistema bancario immobili, ai viaggi, alle vacanze, con le offerte peer-to-peer, ai trasporti, pensate Uber, bla bla, alla musica, ai servizi, alle persone. Ormai diciamo è un fenomeno quello della disintermediazione che tocca tutti i settori della nostra vita quotidiana e penso che sia un tema che Consultic abbia fatto molto bene ad affrontare perché penso che ormai i tempi siano maturi per questo. Collegato alla disintermediazione c'è un tema fortissimo che ricorre anche nel mondo della consulenza fiolli che è quello della fiducia. La fiducia forse nel mondo senza la disintermediazione è la cosa più importante che ci possa esserci come l'autenticità. Quindi insieme ai prestigiosi relatori di questo pomeriggio che ringrazio fin da ora per la loro disponibilità e per il loro supporto avremo accesso anche a delle esperienze di successo legate in modo particolare in questo caso al mondo finanziario. Quindi incomincio a far salire sul parco Andrea Favero, Relationship Manager di iShares. Marcello Kelly, responsabile dell'XRTF Italia. che forse non è ancora arrivato, è entrato in sala. Antonio Sidoti, responsabile mercato italiano di Winslow3. Vincenzo Tedeschi, direttore generale di BINC. E aspettiamo un attimo di pazienza anche Marcello Kelly che è pronto per la microfonatura per poi subito iniziare il dibattito. Prima è una considerazione, il tempo a disposizione è molto poco, quindi chiedo la cortesia ai relatori di stare più o meno al massimo nei due o tre minuti per ogni risposta in modo che poi se avanzerà del tempo magari ci possono essere qualche domanda anche dal pubblico. Io direi che possiamo iniziare in attesa che Marcello ci raggiunga. Iniziamo subito con Andrea Favero. Scusate, mi invito anche sul podio l'ultimo relatore che mi era la dottoressa Gregorini, responsabile Pagli di Distribution di BNP Pariva Italia. Iniziamo, ripeto, subito con Andrea Favero che ci intorra un po' il tema dell'avvicinamento del risparmiatore ai propri investimenti con gli strumenti finanziari degli ETF. Qual è a suo avviso il ruolo che gli ETF possono giocare in questo processo di avvicinamento al mondo degli investimenti per i consulenti finanziari e quindi in questo processo di disintermediazione? Sì, grazie. Mi prece innanzitutto la parola avvicinamento perché dà proprio l'idea di quello che secondo noi è necessario fare. È un po' necessario ripartire dalla centralità della relazione col cliente, mettere il cliente al centro della relazione. Questo aspetto forse è un pochino avvenuto a meno nel corso degli anni da parte di un'industria come la nostra, spesso guidata dall'offerta, quindi spesso poco attenta a questi temi. Cosa intendiamo per rimettere a centro l'investitore, rimettere a centro il risparmiatore? Beh, intendiamo che si crei quella consapevolezza del vero valore dei prodotti e dei servizi di risparmio gestito. Cosa intendiamo quindi? Maggiore trasparenza, maggiore attenzione ai costi. Quindi quello che io pago a un consulente, a un intermediario deve essere in qualche modo rapportato a quello che poi ottengo. Qual è la situazione ad oggi? Bene, in Italia lo sappiamo bene, siamo abbastanza lontani da una situazione ideale. È uscito un report due giorni fa di Consob, forse l'avrete letto, sulla situazione del risparmiatore in Italia. non dà un quadro per niente felice, anzi dà delle caratteristiche abbastanza sconfortanti per chi opera in quest'industria. La situazione non è tanto diversa poi negli Stati Uniti, anche qui una recente ricerca uscita quest'estate di Atticarni fatta su gli investitori che fanno utilizzo del servizio di consulenza. Gli Stati Uniti tra l'altro sono spesso un mercato di riferimento, soprattutto per un'industria come quella della consulenza. Bene, anche lì è uscito da questo report che il 60% dei risparmiatori che fanno utilizzo di un servizio di consulenza in realtà non sanno quanto pagano, addirittura un 30% è convinto di non pagare il servizio, nonostante lo paghi. Quindi c'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da fare per rendere gli investitori più consapevoli del prodotto e del servizio che hanno a disposizione. Che devi il ruolo dell'ETF? Beh, il ruolo dell'ETF non può che avere un ruolo primario per le caratteristiche intrinseche, no? Sono state, le conoscete bene, sono state già ampiamente nominate nel corso della mattinata. Non solo quindi però un ruolo primario, ma probabilmente anche un modello di riferimento per altri strumenti. Quindi grazie alle caratteristiche di trasparenza, bassi costi, ecco l'ETF potrebbe rappresentare un benchmark anche per altri strumenti del mondo del risparmio gestito. Quindi a tendere probabilmente si va in questa direzione di caratteristiche, no? Trasparenza, bassi costi, tutta questa serie di caratteristiche. Dottor Kelly, stando sempre un po' sul tema degli ETF, un asset allocation completamente ETF secondo me è possibile, i pro, i contro? Beh, diciamo che da contratto devo rispondere in maniera affermativa però, diciamo al di là di questo magari è interessante andare a vedere qualche esempio concreto. Diciamo che fare un asset allocation basata solo su ETF non vuol dire, non è una vittoria della gestione passiva, ma è una vittoria della gestione attiva che mette al centro l'asset allocation e soprattutto la cross asset allocation. Facciamo qualche esempio molto concreto, non so, unit link in ETF fatta con reale mutu assicurazioni, in quel caso avevano costruito un basket di ETF, solo i ETF, si pensi che la loro gestione veniva fatta con appena 10 ETF in quello riuscivano a risolvere i problemi dei loro investitori, su che si era montata invece la parte effettivamente a valore aggiunto cioè la parte di gestione attiva, cioè che si basava su un modello IRC, Equally Risk Contribution e poi una parte di protezione dal rischio, un modello TIPP e una garanzia della banca quindi con 10 ETF si riusciva poi su questi a costruire una parte effettivamente di gestione attiva estremamente interessante un altro investitore istituzionale che rappresenta il più grosso TIPP che abbiamo fatto quest'anno, alcune centinaia di milioni di euro che verranno finalizzate a dicembre, dismette una delega di gestione attiva, internalizza la gestione di ETF e fa gestione di ETF per i propri clienti con appena 5 ETF anche in questo caso non è una vittoria della gestione passiva perché poi sull'allineamento ai suoi benchmark con gli ETF c'è poi un 10% del patrimonio gestito in maniera attiva sempre con gli ETF altri esempi di gestione basata sui ETF basta guardare al fenomeno di robot advisor in America che utilizzano in maniera preponderante ETF quindi diciamo da questo punto di vista l'ETF è sicuramente uno strumento che permette di fare a sta location però dico conto i miei stessi interessi non escluderei l'uso di altri strumenti anzi sono il primo a dire che è interessante non avere costrenze sull'uso anche di strumenti più specifici e più tradizionali e soprattutto andare verso un'architettura aperta di ETF quello che mi dispiace è che mentre nel mondo dei fondi se arrivate al concetto di architettura aperta e nessuno pensa di fare un portafoglio di fondi con un'unica casa magari sull'ETF questo non è ancora stato è impossibile che un unico gestore provider di ETF possa su ogni asset class avere il miglior prodotto quello più performante, quello più adatto alle esigenze del cliente quindi spero che un'architettura aperta sia il modello vincente anche nel nostro settore Dottor Sidoti, quindi non solo strategia ma anche tattica con gli ETF quali soluzioni di investimento voi proponete all'interno della vostra gamma? Noi in Wisdom3, mi scuso per la voce noi in Wisdom3 proponiamo sia soluzioni di investimento strategiche che soluzioni di investimento appunto tattiche però perché sotto Wisdom3 abbiamo la piattaforma di ETF, Usage Compliant che sono caratterizzati fortemente da un aspetto smart beta e ultimamente per quanto riguarda la parte più di strategia quindi che più può essere assimilata con un asset allocation di natura core andiamo a lavorare su indici che possono offrire una più allocazione buy and hold della posizione all'interno del portafoglio nel caso specifico ultimamente abbiamo lanciato degli ETF che vanno a replicare degli indici proprietari appunto dove andiamo a selezionare sia fattori di qualità sia fattori di crescita e quindi alla fine andiamo a vedere come i fondamentali possono avere un peso importante per quanto riguarda sia i rendimenti futuri ma soprattutto la crescita dei dividendi nel lungo periodo questo lo facciamo abbinando fattori che possono essere qualitativamente interessanti come la crescita e come anche fattori che riguardano il bilancio proprio perché andiamo a considerare indicatori di redditività come Roe e Roa e andiamo a considerare anche le stime degli earnings sulla base ovviamente di società filtrate a monte sul fatto che queste debbano pagare dividendo questo per quanto riguarda la parte strategica per dare un esempio sulla parte tattica invece noi abbiamo un'altra piattaforma sempre all'interno del gruppo Wisdom3 che è la piattaforma di Boost ETP sulla piattaforma di Boost ETP diamo la possibilità di avere accesso a indici a capitalizzazione di mercato per la maggior parte dei casi che invece sono implementati nella struttura di ETN e DTC prevalentemente a leva quindi l'utilizzo della leva in alcuni contesti può essere interessante soprattutto quando per brevi finestre di mercato è possibile andare ad accelerare i rendimenti e quindi a fare una scommessa più tattica su determinata set class ovviamente a monte va considerata lo strumento va considerato il bilanciamento della leva che è un fattore importante per quanto riguarda l'approccio di ETP che hanno questo tipo di moltiplicatore ma che in determinate fasi di mercato possono essere utili anche in determinata set class laddove i rendimenti possono essere particolarmente stagnanti come appunto nel caso dell'obbligazionario governativo Dottoressa Gregorini un'altra soluzione di investimento sicuramente oltre agli ETF però diciamo è molto utilizzata dal mondo dei consulenti gli permette a loro di approcciarsi al mondo degli investimenti che è quello dei certificati ci puoi parlare un po' della loro flessibilità e un po' delle loro caratteristiche principali? Sì direi che la caratteristica principale dei certificati è proprio la flessibilità nel senso che possono essere degli investimenti molto decorrelati infatti i certificati possono essere lanciati sia con delle protezioni anche molto profonde possono essere lanciati a ribasso quindi che consentono di guadagnare quando il mercato scende possono al contrario moltiplicare le performance in un mercato che sale come i certificati a leva oppure possono essere utilizzati addirittura per la gestione di una parte della liquidità quindi diciamo sono strumenti estremamente flessibili in questo contesto di mercato i prodotti che ci vengono richiesti maggiormente dai consulenti sono prodotti che hanno delle barriere estremamente profonde europee quindi osservate solamente a scadenza quindi più protettive e che paghino dei rendimenti periodici magari anche non elevatissimi ma superiori alle cedole delle obbligazioni in questo contesto proprio per rispondere a questa esigenza ad agosto approfittando della forte volatilità abbiamo lanciato una gamma di cash collect sia su indici che su azioni quindi dei certificati che pagano diciamo dei coupon delle cedole quando l'azione o l'indice è sopra la barriera e se invece è sopra il valore iniziale richiamano anche con barriere estremamente protettive solo per dare una misura sull'indice italiano ne abbiamo con una barriera a 9.700 punti che pagano dei coupon del 2,6% semestrali al 70% di barriere arrivano addirittura al 4,5 quindi diciamo direi che la flessibilità dei certificati per sintetizzare è proprio rappresentata dalla possibilità di scegliere a seconda del profilo rischio rendimento del cliente e dell'asset allocation del portafoglio il certificato adatto il secondo prodotto che ci viene chiesto in assoluto di più sono dei prodotti per coprire il portafoglio direi che da inizio anno i consulenti sono alla ricerca di prodotti per la copertura dei portafogli prodotti che magari non siano soggetti al famigerato compounding effect cioè quello a cui sono soggetti tutti i prodotti che hanno una leva fissa che siano etf a leva fissa o anche certificati a leva fissa e quindi in questa ottica noi abbiamo sviluppato una gamma di certificati con una leva variabile mini future che consentono proprio la copertura del portafoglio e abbiamo anche sviluppato dei tool per calcolarla in maniera molto facile direi l'ultimo aspetto da sottolineare sulla flessibilità dei certificati è anche quello fiscale perché ricordiamolo le plusvalenze derivanti dai certificati possono essere utilizzate per compensare eventuali minusvalenze ad esempio su azioni Dottor Tedeschi Dottor Favro ha presentato prima una ricerca in cui parlava del segmento dei costi insomma il 60% dei consulenti se non ho capito male non sa quali costi sta pagando per il servizio il 30% probabilmente pensa addirittura di non pagare il servizio quindi in questo mondo sempre più evoluto in cui c'è una grande competizione tra comunque sia i servizi offerti e anche sul tema dei costi lei che viene dalla banca online quali sono secondo lei gli aspetti più importanti invece nei servizi di investimento? Ma sicuramente l'esperienza di Bink porta grandi vantaggi commissionali e va nella direzione di avere una banca molto efficiente però l'aspetto più distruttivo della proposta Bink in Italia è che di fatto noi siamo l'elemento di disintermediazione quindi lei diceva in questo mondo di internet o comunque in questo mondo di informazione diffusa il risparmiatore è rimasto un po' ancora all'arcaico cioè ancora la necessità di trovare nel bancario oppure nel promotore finanziario la fonte delle sue informazioni Bink è l'unico modello in Italia di banca non commerciale nel senso che non abbiamo una rete di intermediari o di promotori o di private bankers gestori che dir si voglia quindi l'elemento ideale per un consulente finanziario indipendente che ha un partner nella disintermediazione del cliente quindi ha una banca efficiente da un punto di vista commissionale molto solida dal punto di vista del capitale ricordo che Bink ha un core tier 1 del 38% ed è una banca aderente al fondo nazionale di garanzia olandese quindi una proposta molto solida ma soprattutto un posto dove finalmente il suo cliente può stare in pace dalle pressioni commerciali e dalle pressioni ovviamente di parte della banca che lo ospita Dottor Favero ovviamente un consulente deve preoccuparsi a 360 gradi tutto il portafoglio di un proprio cliente e quindi come consigliate di diversificare il proprio portafoglio con una gestione attiva e una gestione passiva? Assolutamente una piccola premessa prendiamo un pochino le distanze dal dibattito attivo-passivo che secondo noi ha poco senso mi spiego per noi ogni scelta di gestione un po' lo diceva anche il collega di Lixor prima è attiva poi può essere presa con mattoncini passivi piuttosto che attivi lo dimostra la platea di consulenti è vero e da sempre lavora in prevalenza magari con mattoncini passivi come gli etf ma sono sicuramente dei gestori attivi quindi ecco questo dibattito cosa è meglio cosa non è meglio lascia un po' il tempo che trova quello che un po' stiamo osservando però in questi ultimi anni è una magari prevalenza di gestioni che utilizzano i mattoncini passivi magari anche in prevalenza non solo mattoncini passivi ma in prevalenza al mondo istituzionale ci stiamo avvicinando un pochino anche nel mondo retail questo ovviamente è coerente però con una analisi quantitativa di quelli che sono i flussi sia sul mondo attivo che sul mondo passivo che sottolineano una sostanziale crescita della parte passiva andiamo semplicemente a vedere gli ultimi due anni quindi 2014 2015 sono entrati oltre 600 miliardi di dollari su prodotti passivi quindi fondi ed etf sono invece fuoriusciti a 100 miliardi da prodotti attivi quindi c'è un netto trend nel corso degli ultimi anni se guardiamo i tassi di crescita più 17% sulla parte passiva più 7% su quella attiva negli ultimi 5 anni ecco c'è un netto passaggio verso prodotti a gestione passiva cosa sta succedendo quali sono i principali driver di questa di questa crescita della componente passiva beh sicuramente uno dei più rilevanti è il cambiamento di modelli di business si sta diffondendo in maniera sostanziale modelli di business fee based quindi con una fee on top in particolare negli Stati Uniti ma poi anche in Europa la Gran Bretagna più recentemente la Svizzera ovviamente queste tipologie di modelli di business favoriscono una ricerca di prodotti di mattoncini ad un più basso costo possibile quindi sicuramente questo è un driver di crescita del passivo l'altro driver un po' è già stato citato è il mondo dell'online advisory se ne parla molto i numeri ancora sono contenuti largo circa una ventina di miliardi a livello globale ovviamente le aspettative sono quelle di una forte crescita nei prossimi anni diverse stime non le citiamo ma c'è un'aspettativa di forte crescita queste piattaforme utilizzano prevalentemente prodotti passivi quindi cosa cosa aspettarci ovviamente non ci aspettiamo uno scenario in cui quindi questa crescita percentuale del passivo andrà a soppiantare l'attivo non è possibile quello che ci aspettiamo è una polarizzazione della parte attiva e della parte passiva cosa significa resteranno da una parte i cosiddetti veri alpha player quindi quei gestori attivi in grado veramente di generare alpha attraverso la security selection dall'altra parte resteranno i veri provider di beta quindi quelli in grado di ottenere una gestione passiva che sia efficiente tutto quello che c'è nel mezzo quindi sia il gestore attivo che non è in grado di battere un indice piuttosto che un etf provider o un provider di prodotti passivi che non ha sufficiente scala probabilmente tenderà a scomparire per questa polarizzazione l'altro elemento di questa polarizzazione da tenere presente è che probabilmente ogni operatore ogni consulente dovrà sempre più tenere presente ecco i prodotti passivi quindi ovviamente abbiamo di fronte una platea abituata ad utilizzarli sappiamo benissimo soprattutto in questo mercato che ci sono altri segmenti meno abituati a utilizzarli ecco nel futuro probabilmente anche questi altri anche questi altri operatori dovranno imparare utilizzare più prodotti passivi sicuramente questo è uno dei trend che ci risulta anche dal nostro osservatorio noi seguiamo molto il mondo istituzionale che è un mondo comunque sia molto sofisticato e i trend a livello mondiale sono quelli che che diceva lei nel senso che sempre di più ormai anche la parte core del portafoglio di un cliente sempre di più sarà comunque sia influenzata da strumenti finanziari passivi sia per diverse logiche tra cui anche quella chiaramente dei costi parliamo un po' adesso anche di rischi come sono utili come sono utili gli etf per coprirsi un po' dei rischi di mercato qui do la parola al dottor Sidoti sostanzialmente come penso tutti sappiamo gli etf sono entrati a pieno titolo nelle strategie di copertura di portafoglio ovviamente sono interessanti al di là appunto dell'etf in sé per sé considerare anche prodotti nel loro scusate nel loro contesto più ampio come gli etc quindi anche gli etn per fare delle strategie che possibilmente possono impiegare anche la leva quindi utilizzare preservazione di capitale per ottimizzare quella che è la liquidità del portafoglio e andare a coprire determinati asset in specifiche condizioni di mercato io posso fare un esempio concreto come tutti ovviamente vi ricordate la Brexit qualche mese fa ha generato parecchie perplessità soprattutto per quella che poi si è verificato dall'esito del referendum ma soprattutto ha avuto un impatto sostanziale almeno all'inizio nella finestra temporale che ha seguito quello che è stato l'esito del referendum importante per quanto riguarda i mercati la maggior parte dei nostri investitori e quando dico nostri investitori soprattutto su questo versante mi riferisco agli investitori in busto e tp quindi andiamo a parlare di una struttura che non è un etf ma è un etc o un etn a seconda se parliamo di commodity o parliamo di altri sottostanti che possono essere valute obbligazioni o azioni con un fattore di leva superiore a 2 hanno implementato nel loro portafoglio alcuni di questi prodotti per una strategia di copertura specifica tra i prodotti che sono stati sicuramente più popolari posso ricordare il VIX sull'SMP500 che in quella particolare finestra di mercato ha avuto uno spike molto interessante e nel caso particolare del prodotto dell'indice sottostante noi offriamo un etn con una leva 2.25 che va a replicare l'indice short term future del VIX quindi ovviamente offrendo una decorrelazione a quello che è il corso di S&P500 ma anche un altro prodotto che è stato molto cercato e nelle fasi successive al periodo Brexit sicuramente è interessato molto l'attività degli investitori è stato l'euro stocks banche all'iva triple short proprio perché le banche sono entrate in un tema molto caldo non soltanto per quanto riguarda l'Italia ma che ovviamente le vicende le conosciamo benissimo ma andando poi a discutere di quelle che sono le dinamiche internazionali che quindi hanno mostrato come ci sia bisogno di copertura per andare a sterilizzare determinati fasi di volatilità che possano avere un impatto molto forte e preponderante sul portafoglio sicuramente in caso di rendimenti che possono subire un collasso proprio per vicende sia di natura macroeconomica ma anche di vicende che potremmo definire geopolitiche qual è la cosa importante da considerare che questi strumenti possono essere una valida alternativa soprattutto quando ci affrontiamo con una clientela che non può andare a utilizzare degli strumenti derivati proprio perché sono degli strumenti che possono avere da un certo punto di vista una compensazione con quello che è l'esito di un utilizzo di uno strumento derivato però da altri punti di vista è ovvio che le dinamiche sono differenti una delle dinamiche differenti che mi preme considerare che è stato anche citato nel corso di questo scambio di battute è appunto quello dell'effetto compounding lo cito in modo particolarmente connesso a quella che è la nostra attività di prodotto dove la leva di ogni singolo replicante sia long o short viene ribilanciata quotidianamente quindi il bilanciamento quotidiano della leva comporta che la posizione va monitorata tutti i giorni e comporta che l'effetto compounding soprattutto quando il sottostante è molto volatile può essere di parecchio distorsivo della performance quindi il monito che ovviamente mi sento di dare è che sono strumenti importanti da considerare ovviamente poi ognuno farà le sue scelte di portafoglio soprattutto in vista di quella che è il cliente e le aspettative del cliente rispetto ovviamente anche agli stati d'animo che la volatilità e la perdita può comportare in termini di rendimento però sono prodotti che vanno monitorati sono prodotti che vanno seguiti e sono prodotti ovviamente che vanno preferibilmente considerati in un'ottica temporale che può essere abbastanza breve considerando anche il fatto che devono essere ribilanciate quotidianamente le posizioni proprio per non avere né una sottocopertura di portafoglio né tantomeno una sovracopertura che in quel caso comporta un utilizzo del capitale che può essere eccessivo rispetto all'andamento sottostante dell'asset da coprire dottor Kelly siamo in un contesto macroeconomico particolare si pensa che ormai vivremo per diversi anni con un mondo con tassi di interesse comunque sia allo zero o comunque sia poco sopra o addirittura negativi quali altre soluzioni di investimento consigliate anche al mondo dei consulenti finanziari viventi in questo nuovo mondo che ormai sarà la normalità si è da premettere che in un contesto di tassi negativi cambia l'approccio verso il rischio cioè il rischio diventa fisiologico diventa ineluttabile diventa qualcosa che non si può evitare mi spiego mentre in un recente passato si poteva decidere la prima cosa che si decideva era se avere esposizione al rischio o meno e se non si voleva avere esposizione al rischio si andava su cosiddetto free risk che dava comunque un rendimento almeno nominalmente positivo adesso questo mondo è tramontato per cui non c'è più il problema assumo o non assumo rischio per la risposta è sempre assumo rischio diventa solo il problema quale tipologia di rischio assumo un appartamento obbligazionario a duration currency eccetera e in che entità quindi anche nel mondo degli ETF l'Xom ma tutti gli altri colleghi del mondo degli ETF ci siamo mossi per portare il cliente verso questi nuovi paradigmi sulla parte di liquidità per esempio molti gestori hanno il problema di avere la liquidità remunerata al tasso BC a meno 40 basis point quindi anche offrire prodotti negativi che magari per un retail non hanno nessun senso ma per un gestore hanno senso si è andato verso soluzioni dove si sfruttavano arbitraggi fiscali come il nostro smart cash o dove si andava verso non so corporate bond a tasso variabile che dava una duration molto bassa e quindi potevano in qualche maniera essere considerati come uno strumento di liquidità pura sulla parte non governativa ci siamo tutti scontrati sul fatto che se andiamo su corporate bond area euro investment grade prendiamo 0,5% quindi magari un rendimento che non soddisfa se ci portiamo sulla parte a yield prendiamo un 3,5% ma la parte a yield qualcuno ha cominciato a guardare cosa ci fosse dentro e quindi ci si accorge che dentro una yield ci sono i doppi AB come rating che hanno una probabilità di default a un anno storica 10 anni calcolata standard in porsca di 0,76% ma ci sono anche tutta la gamma delle C che hanno diciamo un tasso di default statistico del 26% quindi c'è una bella differenza tra prendere un doppia B oppure la gamma C pur rimanendo sempre nell'ambito degli a yield da questo punto di vista si è cominciato a offrire per esempio ETF e yield solo doppia B per venire incontro a chi voleva sì un tilt di rendimento ma senza eccedere col rischio un'altra soluzione è stata quella di andare sulla parte US dollar è ovvio che lì la parte emerging market US dollar rende il 4,5% la parte investment grade rende il 3,5% eccetera però vuol dire prendere sul rischio di currency allora l'altra soluzione che si può cercare di implementare è stata quella di fare questi strumenti euro edge ora prendere un paniere di bond US dollar e jarli in euro bisogna chiedersi se abbia un senso perché nessuno si nasconde dietro un dito l'edge costa e quindi va detratto dal possibile rendimento potenziale più o meno costa un punto percentuale ci siamo accorti che su una certa parte della curva magari non quella brevissima quella a medio lungo termine aveva molto senso prendere bond in dollari e jarli e comunque si aveva un extra rendimento rispetto allo stesso punto della curva aria euro altre cose che si possono dire è che abbiamo visto soprattutto dagli investitori istituzionali anche quelli più conservativi penso alle assicurazioni un utilizzo sempre più massigio degli ETF short in un'ottica di copertura so che è molto faticoso e magari fuori da quello che era lo scope fino a pochi anni fa delle assicurazioni ma devono fare una gestione più attiva più di copertura non dico speculativa ma meno di copertura per riuscire a tirare fuori rendimento loro portafogli e l'ultima cosa che è una specie di paradosso su cui stanno scommettendo qualche provider compresi noi qualcuno capirà che magari per avere rendimento dovrà abbandonare un po' di obbligazionario andare di più sull'azionario come si fa a fare questo salto quantico a chi era abituato all'obbligazionario si è cominciato a offrire prodotti noi come altri prodotti minimum variance dove cioè si cerca di tagliare la volatilità dei prodotti senza cercare di tagliare con la stessa proporzione il loro rendimento atteso è un modo sempre per trovare soluzione a un mondo diciamo dove è diventato molto difficile muoversi e creare rendimenti positivi dottoressa Gregorini torniamo un attimo al mondo dei certificati che sono decorrolati che servono per coprire il portafoglio vantaggio all'aspetto fiscale ma qual è il ruolo del consulente nel rapporto tra l'investitore finale e il mondo dei certificati beh dire che il ruolo del consulente è fondamentale i certificati di investimento non sono semplici da comprendere e soprattutto ce n'è un'ampia gamma questo è il loro vantaggio ma anche lo svantaggio solo BNP Paribas ha un numero tipo mille certificati tra quotati tra la borsa italiana e il TLX un numero veramente difficile da gestire quindi il ruolo del consulente è sicuramente quello di come dire andare a cercare le soluzioni migliori naturalmente spero anche con il nostro aiuto noi cerchiamo diciamo quantomeno a chi ce lo chiede ogni lunedì di mandare una selezione di quelli che riteniamo che siano più interessanti come distanza dalla barriera e rendimento a scadenza cerchiamo di dividerli per possibili diciamo esigenze che siano liquidità che siano investimenti di lungo periodo eccetera però il ruolo del consulente è quello di selezionare all'interno di questa gamma veramente ampia quello che fa a caso per il portafoglio del suo cliente e poi soprattutto di monitorarli nel durante perché a mio parere quello che è difficile nei certificati non è tanto sceglierli ma è seguirli perché bisogna se la barriera americana bisogna monitorare che non ci si avvicini troppo e non venga toccata perché se prevedono il pagamento di coupon è bello essere come dire saperlo in anticipo ed avvertire il cliente gestire la liquidità che arriva sul conto corrente e proporre un nuovo investimento come fare tutto questo il consulente è diciamo l'unica persona che lo può fare anche per il consulente non è semplice e quindi anche da questo punto di vista gli emittenti in qualche modo hanno creato degli strumenti a supporto ad esempio noi abbiamo creato un portafoglio sul nostro sito dove è possibile inserire tutta la gamma dei nostri certificati ed inserire degli alert che è innanzitutto diciamo ogni consulente può creare un portafoglio per ognuno dei suoi clienti personalizzato e poi soprattutto può inserire degli alert all'avvicinarsi delle barriere al pagamento dei coupon al raggiungimento di certi target e quindi diciamo avere uno strumento che consenta di come dire essere avvertito in maniera automatica senza dover continuamente avere o dei fogli Excel o comunque andare in tempo reale a controllare le quotazioni l'altro ruolo diciamo del consulente è quello di darci delle idee e chiederci un prodotto personalizzato questo è uno dei grandi vantaggi dei certificati per lanciare un fondo ci vogliono mesi è un processo molto complicato per lanciare un certificato diciamo il processo è molto veloce dall'idea alla quotazione sul mercato può passare una settimana dieci giorni questo consente da un lato di cogliere in maniera molto veloce il time to market dei trend di mercato e dall'altro consente anche al consulente che abbia un'esigenza specifica che non è coperta dall'attuale gamma di studiarlo insieme a noi e di crearlo ad hoc quindi mi pare di capire che visto le norme anche quantità e diversità dei certificati sconsigliamo l'utilizzo del file da te beh direi di sì dottor Tedeschi proprio etf ormai vengono negoziati su diverse piattaforme come abbiamo detto prima anche nel mondo delle banche la tecnologia ormai ha fatto nascere nuovi modelli di business tra cui proprio anche il vostro delle banche online cosa ci può dire in merito un po' alla loro affidabilità ma l'affidabilità ovviamente è un termine che di solito viene utilizzato per i software e i siti e i sistemi informatici delle banche online come un po' tutta la tecnologia che oggigiorno è una commodity sono assolutamente affidabili quindi su quello che riguarda la parte IT non ci sono dubbi sicuramente invece è importante la solidità della banca dal punto di vista appunto del rischio bail-in ad esempio abbiamo visto in Italia casi drammatici in cui già banche sono state azzerate a livello di capitale sociale quindi di equiti di azioni e anche di obbligazioni subordinate in questo BINC come dicevamo prima si distingue perché non ha un modello di business che prevede l'erogazione di prestiti e quindi ha un capitale molto solido non emette prestiti obbligazionari subordinati non emette neanche prestiti subordinati senior perché non ha necessità di capitale e anzi ha un capitale in eccesso che proprio in questo periodo sta restituendo agli azionisti con un programma di riacquisto delle azioni per il consulente indipendente quindi è un'offerta alternativa al sistema bancario italiano perché può proporre al proprio cliente un rischio molto inferiore rispetto ai player italiani poi con la recente ampliamento della gamma noi abbiamo parlato tanto di ETF e di certificati in BINC ovviamente sono tutti disponibili sia quelli quotati in borsa italiana che in mercato domestico ma anche ad esempio tutti quelli quotati su Oro Next oppure su Xetra il mercato tedesco o quelli quotati in America e quelli quotati in Inghilterra in America c'è una vastità di strumenti anche ibridi come per esempio le obbligazioni Preferred Share che hanno cedole molto alte ma sono legate all'andamento delle azioni oppure sulla borsa di Londra si possono trovare ETF quotati in valuta in dollari che in Italia non è possibile negoziare BINC offre anche un conto multicurrent quindi per chi ad esempio ha una scelta diversa dalla copertura ma vuole proprio sporsi in una delle valute può negoziare direttamente in quella valuta il recente accordo con Fundstor ci ha permesso anche di aggiungere tutto il mondo del risparmio gestito stiamo parlando di 150 diverse case di gestione per 5.000 fondi comuni di investimento tradizionali quindi abbiamo 1.000 ETF quotati su Borsa Italiana altrettanti su Euronex eccetera 5.000 fondi comuni il consulente può sbizzarrirsi nel proporre al cliente un asset allocation diversificata se a questo aggiungiamo le obbligazioni e BINC è l'unica banca in Italia ad offrire l'accesso al mercato del Luxemburgo dove sono quotati 20.000 prodotti obbligazionari si aggiungono a Borsa Italiana e a TLX alle obbligazioni di Euronext quindi sicuramente un'offerta molto ampia nella quale il cliente appassionato fai da te può gestire in autonomia i propri risparmi ma sempre più ha bisogno di un consulente finanziario vestito dell'indipendenza che quindi non ha diciamo conflitti nel proporre un prodotto piuttosto che altro che gli faccia un asset allocation e che possa seguirla nel tempo Bink su questo offre un servizio che si chiama Bink for Prof in Olanda è un servizio molto sviluppato perché il mondo della consulenza lì è da anni presente addirittura il consulente è riconosciuto come gestore quindi lì Bink offre anche un servizio informatico di diciamo di white label per permettere al consulente la costruzione di un sito di un portale finanziario in Italia siamo ai primi passi però già offriamo la possibilità al consulente di stipulare un contratto trilaterale con il proprio cliente e con Bink e con questo avere accesso in sola visione alla posizione del cliente quindi ha l'informativa completa sul portafoglio del cliente e può seguirlo nella consulenza anche presentandogli appunto un contratto trilaterale che certifica il fatto che il link tra consulente cliente e Bink è un link ufficiale e anche contrattualizzato quindi sicuramente è un buon servizio per chi diciamo ha necessità di gestire la clientela con un intermediario indipendente una piattaforma sicuramente completa c'è tutto fondi etf obbligazioni certificati prossimo sviluppo azioni ovviamente obbligazioni future di fatto tutto il prossimo sviluppo è da inventare probabilmente quello che ci manca è un discorso allettante di conti di deposito però con i tassi al momento sul mercato di fatto investire allo 0,2 allo 0,3 o non investire è equivalente piuttosto meglio appunto avere la liquidità in un intermediario solido in cui il rischio di bail-in è veramente lontano farei un ultimo giro di tavolo per poi magari capire se ci sono delle domande dal pubblico è uscita dalle chiacchierate di tutti voi un tema che secondo me è molto importante che sarà probabilmente il futuro anche della disintimulazione che è il tema dei robo-advisory magari una battuta veloce di ognuno di voi cosa ne pensate se state seguendo questo trend immagino di sì come vi state comportando se state facendo già delle vostre idee su anche i vostri cambi di modelli insomma è un tema sicuramente molto interessante è un tema come dicevo prima che ha delle prospettive di crescita molto notevoli ci sono un sacco di investitori tra l'altro che si sono mossi negli ultimi anni per sostenere questo settore più in generale quello delle fintech abbiamo anche già un mai due o tre esperienze sul mercato italiano esatto ci sono esperienze sul mercato italiano c'è più esperienza sul mercato statunitense Germania piuttosto che Canada altri paesi molto attivi su questi temi ovviamente noi come BlackRock abbiamo anche acquisito RoboAdvisor in realtà per acquisire la tecnologia in altre presentazioni si è parlato dell'importanza della tecnologia noi con questa acquisizione abbiamo acquisito una tecnologia per poi in realtà andarla a proporre su un mercato cosiddetto B2B perché l'altro diciamo aspetto magari uno abituato a pensare a RoboAdvisor come un canale diretto quindi di contatto diretto con il cliente finale in realtà c'è tutto un altro filone che si sta sviluppando e che è quello che potrebbe avere un potenziale maggiore che è quello del cosiddetto B2B quindi un intermediario più tradizionale che utilizza RoboAdvisor per magari targettare un particolare segmento della clientela o magari supportare un proprio consulente con uno strumento più efficiente per seguire determinati target di clientela quindi ovviamente lo vediamo positivamente ci sono tutta una serie di diciamo difficoltà o vincoli che vanno smarcati soprattutto per gli operatori per i nuovi operatori per questi nuovi nomi che sono stati lanciati in questi ultimi anni chi invece ha un brand già consolidato sul mercato e si avvarrà invece di una tecnologia di questo tipo per proporre questa tipologia di servizio potrebbe avere magari la strada più agevole davanti Torsidoti facciamo un giro veloce sono d'accordo con quanto scusate sono d'accordo con quanto detto soprattutto in vista di quelli che nei mesi prossimi saranno gli sviluppi della normativa soprattutto per quanto riguarda attività di consulenza o anche ovviamente il fatto che il pubblico il pubblico retail possa avere accesso diretto a determinate allocazioni di portafoglio proprio tramite software o tool di questa natura offre delle grandissime opportunità questo è innegabile offre delle grandissime opportunità soprattutto per chi lavora su strumenti di ordine passivo su strumenti che hanno efficienza di costo e soprattutto possono essere competitivi come dicevamo in vari momenti di questa tavola rotonda su differenti parti dell'asset allocation quindi io ho parlato specialmente dell'asset allocation di natura tattica però sicuramente anche con l'avanzamento degli smart beta è importante considerare posizioni più buy and hold da asset allocation strategica quindi tutto il mercato sta andando in questa direzione l'interrogativo che secondo me è necessario porsi soprattutto guardando al nostro mercato che è quello del mercato italiano e quanto il consumatore finale in questo momento possa percepire quella che è la reale maturità dell'avanzamento tecnologico rispetto poi alle sue reali esigenze e all'assimilazione di queste tecnologie ovviamente per quanto riguarda la natura del suo portafoglio e dall'altro punto di vista secondo me sarà interessante capire nei prossimi mesi o anche ovviamente nei prossimi anni anche se sappiamo molto bene che molte volte la tecnologia ha un impatto così veloce che ovviamente poi i cambiamenti possono essere veramente nell'ordine di pochi giorni rispetto ovviamente a periodi temporali più lunghi bisognerà veramente capire come software e tool di questa natura robotizzata possono aiutare l'attività di consulenza a fare meglio perché nella fase attuale credo come appunto menzionato prima possono essere uno strumento interessante non per procedere alla disintermediazione totale dove per disintermediazione mi riferisco meglio al rapporto soprattutto tra consulente e cliente ma per aiutare meglio il consulente a fare il matching con quelle che sono le esigenze del cliente finale per supportarlo da vari punti di vista cliente finale che possiamo considerarlo cliente privato nella sua natura di mercato diretto o mercato retail o anche capire quelli che saranno gli sviluppi per un tipo di advisory sicuramente più istituzionale dove in quel momento il livello di sofisticazione anche di filtro degli strumenti e di allogazione del portafoglio deve essere necessariamente più evoluta per degli obiettivi che possibilmente devono raggiungere esigenze specifiche diverse dal mercato del grande pubblico dottoressa Gregorini Kelly vediamo una battuta veloce come vizio stiamo ovviamente in Europa seguendo ci pongiamo più come supporto per i robo-advisor che non è essere in competizione con loro e in Italia ovviamente non mi sono pochissimi se non uno unico però se mi permetti una provocazione robo-advisor almeno così come visto nell'immaginario collettivo è sempre una disintermediazione anche dell'uomo visto che ci troviamo di fronte a una platea di consulenti in carne ed ossa secondo me si è perso un setup prima di pensare al futuro si è perso un setup che secondo me è estremamente interessante che non è stato mai realizzato in Italia se non in alcuni progetti pilota che è quello che in Svizzera chiamano manage account dove quindi c'è una banca rilevante che è patrimonializzata che detiene gli assi del cliente la Bink di turno c'è un cliente retail che sa di avere i propri strumenti diciamo segregati e c'è un consulente terzo che viene dato un mandato di gestione che viene monitorato perché avrà dei limiti di investimento questo permette di smontare il silos italiano dell'intermediazione dove la stessa banca deve fare sia la depositaria fare l'operation fare l'execution eccetera e fare anche la gestione dove io posso essere sicuro dei miei soldi dei miei asset presso una banca e poi di volta in volta decidere a chi delegare è ovvio che questo crea dei problemi perché delegare la gestione a un soggetto privato non è ancora possibile è possibile delegare solamente a un soggetto diciamo autorizzato quindi mette dei paletti degli entry point abbastanza elevati però secondo me più che pensare al robot advisory io penso a questo setup che è molto sviluppato in paesi come la Svizzera in Italia non c'è permetterebbe di fare leva sulle competenze dei singoli in assenza di conflitti interessi uno dei problemi del robot advisor è il fatto di togliere un po' il ruolo del consulente quindi questo modello che appena descritto forse è un'evoluzione diciamo che il robot advisor può essere visto anche come uno strumento a supporto del consulente in erogazione del servizio però diciamo che questo setup vecchio perché in Svizzera c'è da tantissimo tempo risulta sempre strano che non si sia mai sviluppato in Italia perché mi sembra veramente una win-win situation Gregorini una battuta? sì così io devo fare una scommessa penso che il futuro non sarà tanto il robot advisor intesa come piattaforma a sé dove l'investitore privato va a cercarsi le soluzioni di investimento penso che siano pochissimi quelli che hanno la maturità la voglia il tempo sufficiente per farlo credo che in un certo senso il futuro sia in questa sala cioè un mix immagino tra delle piattaforme di robot advisory dove il consulente indipendente che credo che alla fine sarà il modello che si affermerà non solo perché l'investitore sta diventando un più maturo ma anche perché è evidente che la regolamentazione sta spingendo in questa direzione il consulente avrà come dire un accesso a diverse piattaforme che potrà giudicare probabilmente prevalentemente con prodotti passivi come etf e certificati e i migliori prodotti attivi e accanto a questi robot advisory io mi immagino abbia accesso diventi un po' un consulente a 360 gradi quindi non solo consulente finanziario ma che poi abbia accesso a diciamo lo studio che lo aiuti dal punto di vista fiscale cioè io immagino che il futuro sia un consulente indipendente che possa dare consulenza al cliente un po' a 360 gradi appoggiandosi a vari provider di informazioni per delle necessità più tecniche specifiche dottor Tedeschi si vuole raggiungere qualcosa sì sono sostanzialmente d'accordo con Nevia anche la mia opinione che la gestione dei risparmi non è qualcosa di puramente matematico no l'aspetto relazionale psicologico del cliente diciamo delle sue esigenze delle sue peculiarità magari anche delle sue passioni legate ai mercati è un qualcosa che non si può sintetizzare in un algoritmo e quindi preferiamo i consulenti in carne ed ossa cioè la consulenza finanziaria è qualcosa che necessita la professione non si può sintetizzare ed è per questo ad esempio Bink ha in Olanda un robot advisor si chiama Alex il nostro sistema è un software che fa asset allocation automatizzata è un prodotto ecco che a me non piace preferisco il consulente in carne ed ossa e magari finalmente anche in Italia con la possibilità di gestire appunto manager d'account cioè gestire direttamente le operazioni sul conto del cliente però con la propria professionalità bene noi siamo giunti al termine anche di questa tala rotonda ringraziamo ancora tutti gli autorevoli relatori lasciatemi ringraziare ancora una volta consultic grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti